Con l'arrivo dell'estate la città di Agropoli vede anche da anni e anni ormai l'arrivo dei camperisti e dei loro camper. Per questa situazione che causa tanti malumori fra la cittadinanza per i disagi causati da questo tipo di vetture, presto sarà regolamentata, come annunciato su Cilento Channel dal sindaco Adamo Coppola. Dobbiamo capire che non possiamo impedire l'arrivo dei camperisti ma dobbiamo solo organizzarci e regolamentare il tutto. Noi diamo le regole e loro le devono seguire, afferma Coppola. Abbiamo programmato una delibera di giunta in cui individuiamo quali sono le aree destinate ai camper che saranno solo di parcheggio. Una volta fatta questa ordinanza possiamo fare delle sanzioni ai camperisti che si troveranno in aree non destinate a loro. Sceglieremo posti diversi dove potranno parcheggiare e pagare. a prezzi concorrenziali ma non in posti visibili. Il sindaco cita anche una delle zone in cui il fenomeno si manifesta più spesso. Nella zona dell'hotel mare non sarà più possibile posizionarsi. Lì costringeremo ad andare in altre aree più grandi non a bordo del mare. Da lì ci si potrà parcheggiare e muoversi per conoscere la nostra città. L'attività di campeggio non la si potrà fare nessun parcheggio di agropoli ma in aree attrezzate presenti in città o in comuni limitrofi conclude il primo cittadino.